Prima ha inviato le foto al figlio per denigrare la moglie, poi le ha mostrate ai giudici che si stavano occupando del procedimento di separazione legale. Un uomo di 50 anni, nell'agrigentino, rischia il processo per l'accusa di revenge porn, ovvero diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. La procura di Agrigento ha chiesto il rinvio a giudizio dell'uomo in seguito alle denunce dell'ex moglie. L'udienza preliminare per decidere sulla richiesta del Pubblico Ministero si terrà il 14 febbraio davanti al giudice Stefano Zammuto. L'episodio si sarebbe verificato lo scorso 15 febbraio. L'uomo avrebbe ricevuto le foto della moglie dal contenuto sessualmente esplicito da un'amica. La donna, in particolare, sarebbe stata immortalata in biancheria intima e in pose sessualmente inequivocabili. Le foto, secondo l'accusa, erano destinate a restare private e invece sarebbero state diffuse illecitamente senza il consenso dell'interessata. In particolare sarebbero state inviate tramite WhatsApp al figlio al fine, secondo l'accusa, di denigrare la donna nel suo ruolo materno. Le stesse foto, inoltre, sarebbero state poi fatte vedere ai giudici che si dovevano occupare del loro procedimento di separazione. Le foto, in particolare, sarebbero state allegate nella compasta di Costituzione e Risposta e in una successiva memoria legata al fascicolo. L'accusa di revenge porn, infine, è aggravata dall'avere commesso il fatto ai danni della coniuge.